ragazzi secondo tentativo vediamo come va siamo con giovanni che fa da apripista abbiamo avuto qualche piccolo intoppo a calibrarci l'attacco degli sci neve fresca neve non fresca vediamo che siamo capaci a fare qua guardatelo sembra un maestro di sci sembra federazione italiana culo per terra noi siamo ragazzi vediamo questa bella caduta in diretta quanti tracciati allora uno c'è occhio che è pendente questa qua è un po più difficile però dobbiamo andarci a prendere quello ski lift quindi vediamo di rallentiamo 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 facciamo la polsbola andiamo a scollare i freni molliamo i freni via mazzolo qui l'altro pop ciao